ciao a tutti finalmente sono riuscito a mettere le mani su questa beta di diablo 3 che su fine settimana è stata aperta a tutti per fare il test la blizzard ha voluto fare il test dei server e quindi è aperta gratuita a tutti e sono riuscito a provare il witch doctor una classe molto interessante specializzata nelle abilità di evocazioni quindi chi aveva una predilezione per i necromanti come nel caso sottoscritto apprezzerà molto questa questa classe diciamo le abilità principalmente sono sempre riguardano sempre evocazioni però evocazioni vario tipo sono per esempio anche abilità particolari tipo lancia dei dardi avvelenati oppure lancia dei specie di damigiane come in questo caso sto lanciando dei damigiane piene di ragni ragni che attaccano e fanno un parecchio malino e ovviamente poi ci sono le evocazioni tipo i cani zombie come sono in questo caso state vedendo insomma ne evocate un po poi ci sono anche le magie tipo di pipistrelli fiammeggianti che attaccano sulla corta distanza con un attacco oriente devastante oppure dei zombie evocati che scoppiano dopo pochi secondi insomma è un personaggio molto interessante ovviamente come tutti i personaggi ci sono anche le controparti femminili mi lascio un po di gameplay sperando che i server tornino tornino operativi perché in questo momento sono down quindi non ho potuto provare provare appieno questa beta diciamo che comunque è una cosa che era prevedibile perché la blizzard sta facendo stress test cioè testare proprio i server con una grande utenza con molti giocatori che si divertono questo vi saluto per adesso ciao as a big pack coming this time stand your ground Grazie a tutti This must be the blacksmith's apprentice Hadric should be told of his fate This must be the blacksmith's apprentice 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 This must be the blacksmith's apprentice